Luca Verna, allora intanto il ruolo ideale è quello di domenica contro il Prato, mezzala? Sì, centrocampista, poi penso di poter ricoprire tutti i ruoli, o a due o a tre, anche perché ho sempre giocato così. O col centrocampo a quattro, facendo uno dei due centrocampisti, ma mezzala a destra. A destra, col centrocampo a tre, forse hai qualche libertà di più di attaccare. Magari a due si è più bloccato, però uguale. Ma appunto, questi inserimenti che sono un po' la tua caratteristica, anche domenica hai fatto due goli, il primo annullato, sono un po' nel tuo DNA o fai degli allenamenti specifici? No, diciamo che potrebbe essere la mia caratteristica. Poi noi ci alleniamo e proviamo anche questo, vari movimenti, tra cui l'inserimento delle mezzali. E quindi mi facilita anche il movimento dei compagni a inserirmi meglio nella difesa avversaria. Ti facilita anche l'area dell'arena, perché l'altrano due gol col Grosseto, uno colpista subito all'esordio. Beh, è un bello stadio, grande pubblico domenica scorsa, quindi ti stimola a far meglio. C'è qualche vantaggio avere come allenatore un centrocampista che ha giocato a certi livelli? Beh, credo di sì. Credo che sia un vantaggio per tutti avere un allenatore come il mister, proprio per la carriera che ha fatto. Per i centrocampisti forse è ancora meglio, perché appena avendo fatto quel ruolo ci può dire qualche piccolezza che magari noi trascuriamo, qualche movimento del corpo, qualche minimi dettagli, ci può aiutare a far crescere. Hai avuto modo di sentire Torromino, che lo scorso anno era con te, nei giorni in cui sembrava dovesse diventare neroazzurro? Sì, sì, io Peppe sentivo già quest'estate, poi anche sapendo che noi abbiamo il stesso provatore, quindi anche sapevo di interesse, ci ho parlato diverse volte, le ultime ore lui era convinto di venire qua, era voglioso, cioè io mi aveva chiesto un po' com'era, io l'ho descritto comunque che è una società che comunque è entrata da poco, però che vuole fare cose in grandi, quindi lui era davvero convinto, questo lo posso dire, poi non so che è successo con il Crotone, Grazie a tutti.